Il resto della Task Force 141 ha introdotto la CS, Allen. Due uomini hanno distrutto un'intera base. Ora ti chiederò molto di più. Vittime. Do la sua guerra davanti a torture, traffico di umani o genocidi. Non ha una bandiera, un paese o degli ideali da servire. Solo soldi in cambio di sangue. È il tuo nuovo migliore amico. Meglio che tu non sappia quanto sia costato metterti al suo fianco. Ti costerà un occhio della testa. Ma sarà nulla in confronto a quello che salverai. Tsunami, po. Ricordate, niente russo. Mora scopri o di N Walkenari. Cosa! Vediamo il passaggio di panorama. Surtro inizio. Surtro inizio. Viagra! Vediamoci. Vediamo su livello. Poi inizio. Vediamo si. Vediamo su livello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Andiamo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.